La Previdente è sempre tutto ok. Che cosa le avevo detto? Mi seguo al commissariato. Ma, ispettate. Voglio presentarla ai miei colleghi. La Previdente. Chiarezza in ogni caso. Allegri bambini è nato Linus Superdry! Allegri bambini! Con Linus Superdry arriva la gioia dell'asciutto. Guardate perché. Mentre il pannolino tradizionale sta ancora assorbendo la prima pipì, Linus Superdry ne assorbe due. E toccate che è asciutto! E allora allegri bambini! Con un asciutto così è una gioia farvi lì! Linus Superdry, la gioia dell'asciutto. Richiesta di intellizzo. Claim for. Business English, il corso di inglese per il mondo degli affari. Case History, lingua parlata e scritta, controllo immediato dei tuoi progressi. A 2.900 lire fascicolo e audiocassetta nella pratica cartella. Un corso di lingue di Agostini. Più cercate la qualità, più apprezzate il bollino blu. Chiquita, 10 lode. Tu che studi medicina, perché un prodotto di igiene intima è tollerato da alcune donne e può dare irritazioni ad altre? Forse non è abbastanza delicato. I nuovi test clinici di infasilintimo, invece, dimostrano la sua tollerabilità su soggetti diversi. In soggetti sani non altera il pH. In soggetti con irritazioni o predisposti ad allergie, è comunque tollerato. E trovi un gran senso di pulito. Di tanta delicatezza. Nuovo infasilintimo. Tanto è delicato, tanto è tollerato. Che freddo! Ma dove sono? È tutto congelato. Il frigo è pieno di brina. La mela! Ho scelto. È Candy. Candy, la tranquillità è di casa. Signorina, la pratica 262, per favore. Subito! Dox, coordinati per ufficio. Più assoluto e più pulito di così, credo che non sia possibile. In più, adesso, non ci metto niente a cambiarmi. Linea Seta Ultra presenta una novità esclusiva, la nuova bustina pronto uso. Cioè, il cambio non ci vuole niente a farlo. Lo prendi, lo apri, basta un gesto e il cambio è fatto, senza più tutte quelle cartine da staccare. E poi, per buttarlo, comodissimo. Lo riavvolgi, con questa linguetta lo chiudi, è facile. Linea Seta Ultra, con e senza ali. Basta un gesto. E addosso senti solo asciutto e pulito. Ancora non ci sia. Muoviti, prova ad andare più a destra. La nuova Opel Astra Station Wagon Climatica ha un fascino. Ancora di più. Senza confronti. Perfetto. Sei bellissima. Ha motori Ecotec 16 valvole, da 100 e 115 cavalli. Climatizzatore. Full-size airbag. Il tutto a un prezzo senza uguali. Da lire 24 milioni e 900 mila. Opel Astra Station Wagon Climatic. Senza rivali. Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antonio Banderas, Winona Ryder. Nel film tratto dal capolavoro di Isabella Liende. La casa degli spiriti. Prima TV lunedì 15 gennaio. Canale Cigli.